no troppo corto troppo corto troppo corto allora allora fai sto sasso o no? me l'hai già fatto fare tre volte per niente non lo fa, non lo fa dovete girare sotto mi zia che quante muore porca locca ragazzi c'è da fare un vasetto di marmellata qua ma che spettacolo porca loccaccia male il getto oh allora ciao 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 quella dopo chi è che rugga? il vito no fai morbido quello però va appena giri vai via se no ruggi allora aiutalo no aiutalo un po no divino perché c'è il buco ah ma si è proprio incastrato si è incastrato